vediamo se c'è qualcuno anche dal mio vediamo se c'è qualcuno anche sul mio canele ragazzi vedete come lo vedete se in hd se se lo vedete in vc in sl schifo per la miseria guarda c'è una qualità video su e live fa pietà da me non c'è nessuno non mi si vedono i tratti somatici così da non c'è nessuno è il pinza ciao il pinza stava qua e meno male ma ogni tanto qualcuno è passato pure da me ciao glenda niente eravamo qui con emiliano 74 e grande il pinza grande grazie e ciao raffo baffo bassa molto bassa sorpresa sia una live a sorpresa perché abbiamo detto facciamo una serata senza live senza cose eccetera eccetera poi ci siete mancati ciao rods ci siete mancati e senti l'IMS le scorregge dentro al prego eh prego no dicevo il nostro carissimo rods l'altro giorno ha recensito un un puzzones ah ok i puzzones un puzzones che si chiama qualche cosa spicchio da fiato taglio e poi lui diceva che quando vai a aprire quelle cose quei barattoli che servono per conservare i puzzones dice un po come conservare le proprie scorregge all'interno di quegli di quei contenitori molto interessante devo dire assolutamente avremo una fabbrica di puzzones si molto interessante devo dire molto interessante e niente quindi volevo dire che a settembre torneremo con le live insieme ma stiamo pensando a una formula diversa perché se no viene un gran casino e quindi magari non lo so magari faremo una live dove stabiliamo degli argomenti faremo cioè la dobbiamo impostare un po' più loro poi fanno le domande però capito dargli una traccia se no fanno un'ora e mezza dei casino e ci accavalliamo e parliamo in due capito ma infatti questa più che altro è una cosa così volante questa è per annunciare giusto per dirvi questo che settembre è vicino giusto per fare annunciazione annunciazione uè marì a casa di manuele le live vengono medio perché c'ha la dsl però se crepate caldo quindi ho la fibra ho la fibra è la fibra 100 mega e niente quindi niente volevamo dire che torneremo torneremo con le live di coppia e io e maria dei filippi solo quello di coppia eh solo le live eh anche per me glenda mi associo e e quindi niente quindi vi volevamo dire guardate che guardate che andiamo in live a settembre e riprenderemo le live insieme e cercheremo una formula carina per divertirci per leggere i vostri commenti per parlare con voi ma anche per dargli un magari un argomento per la live magari farvi vedere dei pezzi in una live che ne so perché no e quindi no ciao zack allora un grandissimo saluto ciao andrea a zack e overkill con il quale mi ci sto sentendo quasi tutti i giorni condividiamo tantissime cose mi fa molto piacere zack averti conosciuto non c'era niente di programmare pensa ci siamo sentiti adesso su whatsapp ti ho mandato la foto della postazione volevi ma avevi chiesto come come reggevo il telefono c'hai ragione è venuto a cena a manuel ma non abbiamo programmato niente dico senti vabbè facciamo tutti i giorni e così attenzione che è arrivato mirko ecchielo buono questo e infatti ha scritto zack e overkill comunque gabri c'ha ragione settembre e dopodomani settembre e dopodomani noi stiamo fa torneremo a settembre vabbè noi vogliamo dire metà settembre faremo la live settembre avanzato settembre barra ottobre un settembre inoltrato lo abbiamo inoltrato questo settembre quindi niente abbiamo deciso e quindi vi volevamo annunciare queste live di coppia e ve lo volevamo annunciare in coppia e quindi abbiamo detto facciamo una liveina dai il 18 va bene glenda potremmo fare il 18 dobbiamo solo vedere che giorno è se ci sono degli impegni se ci sono se ci sono degli impegni e se e se si può fa e se si può fare oh giacomidi è qua charlie overkill charlie charlie overkill oh ciao luigi e quindi chi è arrivato adesso insomma capito zack che sei sparito e quindi volevamo dire che andremo di nuovo in live a metà settembre con le live di coppia e niente volevamo dire eravamo qui abbiamo fatto una cenetta e quindi abbiamo detto diciamolo anche ai nostri ragazzi ai nostri iscritti baciotto a a chi glenda ciao giulia glenda baciotto a chi perché ci sono tutte e due le principesse questa sera quindi a chi baciotto a baciotto a la suspense mi sta uccidendo al pelosetto io pensavo alle mie principesse senti ditemi un bacio anche al pelotetto che vi siete comprati stasettimana stasettimana eh che dovrebbe essere comprati diteci ciao luigi al pelosetto eccolo l'al pelosetto glenda sta sbragato rilassato alla nina alle principesse bacioni va bene allora mi sobbarcherò di questa incombenza e andrò a dare i baciotto alle principesse sapete se si trovano figure del signore degli anelli toy beats si si trovano su ebay si trovano non costano quelle che c'ho io sono da toy beats non lo so perché il signore dell'anelli non lo correzione non costano neanche tanto quindi non sono non costano neanche tanto informato io ce ne ho tantissime cioè ce n'ho un bel po e però ogni tanto guardo su ebay e ci sono ci cerca le magari non di tutti i film però ci sono qualche pezzo lo puoi trovare non mi sembra neanche che costino una cifra una cifra incredibile una cifra spropositata bello il drago giorgio si l'ho visto e beh ma mcfarland con i draghi è un drago proprio quella figura è proprio un drago beh sono diciamo un po i cavalli di battaglia eh sì ho comprato delle minifigure non ufficiali un paio di kit che farò ovviamente vedere sul canale sì ma non mi hai risposto rose le scorreggie ce l'hai messa dentro a sto barattolo o no oh eh mirko guardate che belli i pantaloni di emiliano della nega beh specialmente le gambe abbronzate sì sprigionano sexiezza sexità allora che vi siete comprati stasettimana dai su ditemi qualche cosa un po ah e ma io mi sono comprato il re predator il padre dell'elder ah vabbè ok il da alien verso predator quello col mantello rosso no figo sì quello l'ho visto da sisco 78 dall'ex spacciatore no vabbè dai non è proprio ex su beh o quant'è che hai comprito sisco eh parecchio da quando sto con mondo action figure che me sta rovinà me sta rovinà anzi lo saluto i pedalini no 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 mirko niente pedalini questa sera erano finiti i pedalini della nega e quindi niente ha il piede ignudo il piede ignudo e tanto vi faccio fare una panoramica dell'aggiornamento della collezione di emiliano visto che siamo qua visto che da casa mia la vedete sempre vi faccio fare l'aggiornamento di quella di emiliano insomma vediamo io ho appena preso le figure di hateful hate no davvero che è sto hateful hate? eh quello di tarantino davvero il pinza? non le ho viste come sono? sono in attesa di recuperare la disney villains treasures della fanco ah bella grande glenda no il pinza io devo vedere non le ho mai non le ho viste devo andare su ebay a cercarle come sono fatte? dicci tutto il pinza ma quali hai preso poi di hateful hate? eh immagino della nega poi ciao che cus io non sapevo nemmeno che avesse fatto le figure di hateful hate ma qual è questo film? quello western con perchè io sono rimasto a jungle? no dopo e sto costruendo il diorama si si prese stupende con i vestiti in stoffa belle eh ora mi hai fatto venire voglia il pinza tutti e otto l'hai presi ma guarda io a quello invece sono tenuto alla larga perchè ne ho tutti e otto ne ho visti diversi che ci hanno 3x8 24 almeno sbaglio? dimmi se sono forte in matematica praticamente sono bloccata questa articolazione qua 32 vedi? ti avevo detto 3x8 24 eh ho fatto i conti giusti eh eh una bella una bella spesa hai fatto aspetta vediamo un po' e adesso questa live la proseguiremo stile anni 20 in bianco e nero la proseguiremo Armored Batman della DC Multiverse alto 30 cm tu me lo consigli? aha San Benedettese che ha San Benedettese? che ha San Benedettese? che ha San Benedettese? Mirko che ha San Benedettese? aspetta che te lo faccio vedere ti ho fatto dell'altra volta guardate che luci ragazzi Gabriele ci saluta al volo perché c'ha Don Matteo salutamelo o sai Emiliano ah Mirko ha detto a San Benedettese a San Benedettese questo qua Giorgio ecco qua io non lo so vabbè se vede uno schifo si vede la qualità però mi si pianta eh lo so ragazzi sto siamo in due con il wifi siamo in due con il wifi oddio che figo questo effetto ditemi se vi piace questo d'effetto è una crema figo io questo non lo sta bene Gio cerchiamo di interessare si è una live cazzeggio stasera vi vogliamo solo dire che torneremo in live in coppia a settembre sempre più agguerriti e e con effetti speciali mirabolanti vediamo questo eh questa è una cosa seria voi avete fatto acquisti oggi no lui continua a comprare io mi sa che è una settimana che non compro una settimana ma forse due due settimane ma che stai io ero una con depressione mi sa che l'ultima cosa che ho comprato è stata poi se vuoi Giorgio ti mando le foto sul gruppo lo vedi meglio Paolo lo so perché sto provando gli effetti guardate questo Manuel il romanista grande emiliano questo effetto Manuel si chiama come te Manuel il romanista uno di Roma andiamo bello il nome bella la squadra ci avevamo uno di Roma e questo questo effetto mi fa pensare a una cosa tipo partita a scacchi con la morte eh a me il mal di mare eh esagerati per due effetti speciali ma tu ti dico qua la qualità lì poi si ma scusa ma io mi vedo con una qualità de merda tu ti vedi no non lo so come la stanno guardando loro ecco scusate ragazzi ho qui la stampa che mi sta intervistando e niente no comment no comment per favore per favore no flash please no flash please no e no e no e no non mi toccate non mi toccate eh non mi toccate ok ok vabbè stasera poi non ci stanno take on me take on me I can win eh madonna ma chi vi fai i take that così boom boom i take that ma che sta a dio i take that gli ha ok ok vabbè basta levo gli effetti levo gli effetti ma certo che te saluto ciao Manuel il romanista scusi il reddito di cittadinanza aspetta mi sono perso glenda si sta tagliando avete bevuto il vinaccio eh no siamo senza pensa senza alcolici insomma dai è l'ambrusco romagna di romagna vabbè l'ambruschetto di romagna scusi il reddito di cittadinanza per i collezionisti eh lo stiamo aspettando anche noi Mirko quanto avete bevuto no niente un bicchierino una cosetta così niente voi ricordate il film è che scemo più scemo è che stasera di faccallo particolarmente bello sembra state sembra e quindi niente siamo in relax siamo a sbrago siamo a sbrago e niente gli effetti speciali ve l'abbiamo fatto take on me take on me quanto è bella sta canzone eh sì Emanuele sì è vero bella poi è stata quella cosa del cartone animato lì e fece scalpore quel video piaceva piaceva c'era mia cugina che intanto lei i miei video non li vede c'era mia cugina c'era mia cugina diventa cartone insomma e quindi cartone più cartone 7 e 14 28 diviso 3 insomma tutto va bene ragazzi ciao Andrea sì certo certo che tutto bene siamo alla grande e quando stai con gli amici ti diverti e stai bene stai alla grande anzi Manuel mi ha portato anche un regalino che ve faccio vedere consapevole del fatto che sto collezionando le Hot Wheels eh vediamo aspetta fai vedere la macchina coprendo il titolo del film vediamo se riconosco il titolo del film che? ti volevo dire coprigli la macchina senza fai vedere il titolo del film vediamo se riconoscono vediamo se riconoscono che macchina è di che film eh? vediamo se la riconoscete grande Andrea grazie ci fa piacere dai cantateci un'altra canzone quella è il replicante di Manuel lui usa l'iPad è vero io uso l'iPad bravo Giorgio no veramente le ultime live quelle da solo le sto facendo direttamente dal Mac fighissima direttamente dal Mac cioè vado al McDonald gli fanno vedere pure quello che ti ho regalato io però sì eh? dai cantateci un'altra canzone che gli cantiamo? eh? che gli cantiamo? la colonna sonora di quello che sta appentrando sì la macchina è di Fast and Furious no Andrea eh? grazie per aver giocato non è di Fast and Furious ragazzi G dai Castelli non è neanche G dai Castelli Manuel il mio fratello si è messo a fare il lego del drago dei Natskull ma è bellissimo io ho fatto qualche diorama vai andando sublime sustaining ma 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 i ai convincing Ma l'avete visto questo Sprite Raid Ma non è che la posso fare tutta Guardate che spettacolo Perché avete visto il video che io Ho il T-Rex gigante Questo va alle spalle del T-Rex gigante Quindi T-Rex su T-Rex Scova, capito? Questo poi vabbè ci faremo pure un videazzo Eh sì Ciao Frank80 Cantate il bat di Michael Jackson Eh sì certo Ma che hai preso la serata karaoke? Oddio che bello è il T-Rex Eh sì Che meraviglia, sì lo so E ragazzi Emiliano è un artista Emiliano è un artissima E' un artista E quindi visto che io ho comprato il T-Rex L'ho messo su una Daedolf E quindi lui ha detto Eh ci mettiamo dietro Quindi il quadro appeso col T-Rex Dietro al T-Rex Verrà uno spettacolo Poi ve lo farò vedere insomma Scima Live Ciao Simone della Casa del Nerd Eccoci qua Eh sì era improvvisata Simone Non abbiamo preannunciato No c'è venuta così C'è venuta così Anche perché vi vogliamo dire Che torneremo a settembre A metà settembre Con le live in coppia Io e lui Lui e io I scemo è più scemo Canta la canzone della Contea La canzone della Contea Mi devi fare gli sfondi per la Dorf Va bene quando vuoi caro La canzone della Contea Non me la ricordo ragazzi La canzone della Contea non me la ricordo Come il castello di Hogwarts C'è la coppia del primo film Sì vero Andrea E la canzone della Contea non me la ricordo È bella ma non me la ricordo Emanuele Basso no Ok Ciao Frank 80 Ah Canta Callo con Robin Hood Robin Hood e Little John Va nella foresta Ed ognun con l'altro canta e balla come vuol Robin Hood e Little John Cantan senza sosta Urca Urca Tirullero Oggi splende il sol Eh ragazzi Questa ci ha addormentato mio figlio per anni Mi stava a dormire pure io Questo è un classico Ciao Yuri Urca Urca Tirullero Eh ragazzi Ciao Non mi cogliete in fallo su Urca Urca Tirullero Urca Urca Tirullero Oggi splende il sol Eh andiamo Eh E quindi niente Vi abbiamo fatto vedere la macchinina Vi abbiamo fatto vedere il T-Rex Vi abbiamo detto che a settembre Noi torneremo di nuovo In live di coppia 15 uomini sulla cassa del morto Eh figa pure quella 15 uomini 15 uomini Mi sa che siamo uguali Mi sa che siamo uguali In che senso Paolo Eh che cussa Attore preferito Cioè Matti uguali Lo spero per te Il vostro film Disney preferito Giovanni Ciao back to the nerd Vi posso cantare Altore preferito Che è Cus Arnold Schwarzenegger Vi posso cantare C'è sono cresciuto Dagli Aristogatti E dopo Stallone Non mi viene Va bene Crudelia Ma chi è Arnatore Arnold Mirko qui l'hai ferito Sotto Tra il fegato e il costato L'hai ferito Mirko L'ho detto Che per parlare con me Devi rivolgerti ai miei manager Prima Ma Darth Fener dietro di voi Ci sta dando la benedizione Non lo vedo Dove sta Ah quello lassù Sì No quello non è Darth Fener Quello mi hanno affanculo Quello Quello sta lì che dice Ragazzi che dobbiamo fare E no Andiamo a lavorare Sì Yuri Io non so tanto dei Disney Non so se si è capito Mi piacciono i film dati Però non è che so Non è che so Mi metto un prima fila Quando c'è un film metal Quello è Dark in Cazza Sì abbastanza E no invece Ti volevo No Ve volevo cantare Quello sono più Macho Per arrivare da Roma Per arrivare C'è qui da Roma Ho fatto l'autostop Ma in Francia È già un bel pezzo Che c'è sto Ma pure Ed è emigrato Na 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 Mica so cambiato Na 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 Io so Romeo E il meglio del Colosseo Questa è la canzone Che mi si addice di più Ragazzi Devo ricambiare Il nome sotto il beige Al lavoro Perché devo rimettere Romeo Wolverine Non mi si addice Wolverine Non mi si addice Non mi si addice Sempre artigli c'hanno Ma io so Romeo Quindi Eh si Glenda Io so Romeo Il meglio del Colosseo Che poi Romeo È irlandese Sì perché si chiama Home Alley Bravo il pinza Perché si chiama Home Alley Allora La casa del nerd Ti chiede Se la Disney Ha mai fatto Niente della spada Nella roccia A parte Vincenzo Semola La spada Nella roccia Si Si chiama Da Non lo posso dire Da Non lo posso dire Dal tramonto all'alba Andrea Dal tramonto all'alba E che macchina bella c'ha Boh Nella versione italiana Romeo è di Roma Si e tra l'altro È interpretato Sia la canzone Che la voce Da un toscano Perché la voce di Romeo È di Aiutami La voce di Romeo È dell'attore Quello che ha fatto anche Senti qui c'è la con te Mirko Fateci vedere La collezione di Emiliano Ci siamo fatti Due palle Con le principessine La collezione Ve l'ho fatta vedere Ecco lì Guardate che roba No Ritorno al futuro E la macchina Allora mi hai detto Da Andrea Mi hai detto Da Io pensavo Dal tramonto all'alba Ma perché non rifanno Le figure del Signore degli Anelli Eh perché non c'è il film Emanuele Purtroppo non c'è il film Però Però si trovano Si trovano anche Un prezzo Non altissimo A D A Non l'avevo capito L'avevo capito Da Ho che ho letto male io I monster qua Mirko Questi mi ha venduti lui Messi così sono bellissimi Mamma mia che serie spettacolare Messi così sono bellissimi Anche se io sono più per gli Adams Io sono più da Adams Eh sì Glenda Proprio così E E quindi È un toscano quello che dà la voce a Romeo Ed è quello di Come si chiama il film Quello Amici miei È quello di amici miei Dai qualcuno mi venga No l'altro Qualcuno mi venga in soccorso Glenda anche a te Mi ricordo Mirko hai venduto quella bellezza ad Emiliano Manuel lo conosci? Bagno Maria Nel senso di pentolino Che ci metti sopra la roba e la scaldi Dai aiutatemi Come si chiama l'attore Quello che ha fatto anche amici miei Che dà la voce a Romeo Che è toscano E tra l'altro lo fa anche bene il romano Devo dire Perché di solito Quando quelli che non sono di Roma Cercano di fare i romani Viene fuori Ma sai che una volta Io incontrai all'autogrill Ma no il film Ah il film è Bagno Maria Ah no ok No non l'ho visto Una volta all'autogrill A Frascati Incontrai Un tizio vestito da Thomas Miglia Ma pensa un po' Praticamente era uno un fan Ma andava proprio in giro così questo Con la tuta blu Con tutti quei pomponi Quei nastrini Ma era spiccicato Arrivo lì Gli faccio Tu sei un mito Gli ho detto Ha aperto bocca E mi ha fatto crollare il mito Parlava napoletano Cioè Thomas Miglia Che mi parli napoletano Dai Lascia perdere Almeno rimani zitto Almeno stai zitto Se vuoi interpretare un romano Sforzi da parlare romano Eh ma Ciao Antonio Eh ma non Capito no? Eh non è per tutti Il romano E guarda che c'è E guarda che c'è stava Gira intorno Una figure De Scream Della Nega L'ho vista L'ho vista Qui a un negozio A Roma Si chiama La Pulce Funetti Se non sbaglio Si chiama Renzo Renzo Montagnani Grazie Antonio Scream Grazie Antonio Renzo Montagnani Scream 4 Ma tu costruirai la DeLorean Englemos Non c'ho la pazienza Sì la DeLorean Redicola E quando la finisci Le minifigure della Lego Sono quattro pezzi Le monta mia moglie Figurate se posso montare la DeLorean Romeo è uguale a Renzo Montagnani Oh Buonasera Anna Buonasera Buonasera Io sono pronto Io sono pronto Ragazzi quando leggete Anna Bagliocchi lì E' la persona Che mi dovrebbe permettere Di fare Il secondo video Le collezioni degli altri Quindi Quindi spero a breve Di riuscire a fare questo video E grazie per Renzo Montagnani Perché non mi veniva Li portai le Marvel Legends Veramente le Marvel Legends Le Marvel Legends Ne è arrivata una scatola sola E se l'è comprata Lui Tutta la scatola Completa L'ultima che è arrivata E quella che è finita Ma una scatola Ne è arrivata Ne hai presa tutta tu Buonanotte Paolo Grazie Tanto Siamo qui a dire due cavolate Io lo faccio Andrea Io ho un applauso per te Che la fai la DeLorean Perché Verrà uno spettacolo E T'ammiro Io non ci riuscirai mai No ma Non ti conviene nemmeno Ma Quando hai finito A parte che finisci fra dieci anni De montarla Ma Paolo Lo sai quanto ti è costato Buonanotte Grazie per il saluto E il suggerimento Di Di Renzo Montagnani E rimango in attesa Rimango in attesa Ho montato le teste Della Lego Di ritorno al futuro Del mio ultimo video Ma è già online Non vedo l'ora Glenda E anche io Perché La signora Anna C'ha delle cose C'ha delle cose Che vi faccio uscire Gli occhi di fuori Delle cose fighissime Giorgio Che ti riferisci Che non ho capito E quindi niente Quindi spero di farvelo vedere a breve Di farvela vedere a bene A breve la collezione La collezione della signora Anna Ah il film è quello che Si vocifera Ciao Gennaro Che dovrebbe uscire Perché ancora non è niente Sì sì Allora dopo lo vate a vedere Back to the Nerd Ah io ho fatto la promozione Che arrivano tutte le settimane No beh certo Se decidi di farla tutta Ti conviene Mirko ha finito ieri De montare La Delorean Un modellino De una nave Iniziata da Nonno Nel 1932 E come Dilan Dog Dilan Dog Non l'ho mai finita Ha finito ieri Dice Quando segui il vostro canale Collezionare le action figure Per me è ancora più appassionante Vi voglio bene ragazzi Anche voi Ale Allora noi Lo sforzo per i video Per farlo Andare a comprare le cose Che ci piace Però dico Tenere un canale È uno sforzo Ma quando arrivano questi messaggi Sì Diventa veramente Uno strapiacere Vedi che c'è gente È un clarinetto Bravo Back to the Nerd È un clarinetto Ma il nome della melodia È il compositore Non so E se no era troppo facile Non so tutti come Mirko No E Back to the Nerd È il nome del Tanto state andando a googolare Lo so che state andando a googolare Ma venite a Romics È certo che veniamo a Romics Vediamo se quest'anno Non metà buca E riusciamo a andare insieme A dove? A Romics Ma con chi mai ce l'hai? È Ma io È giovedì È Io pure giovedì Giovedì No che io vado sabato e domenica Solo giovedì No è certo È andiamo Mi sfugge con il trillo del diavolo Mi pare Bravo Back to the Nerd Di Tartini Il compositore è Tartini E la musica è il trillo del diavolo Belli poi Nerd Ma se no non ti chiameresti Back to the Nerd No Se non fossi nerd Proprio dentro Eh Grande Grande il Pinsa Anche noi collezioniamo con più passione Sapendo che c'è qualcuno che li apprezza E che li vede da l'altra Qual è quella che Il compositore non lo conosce C'è la mano di Giorgi Beh io Diran Dog Dall'inizio Io venerdì Vengo al Romics Vediamo Venerdì è un po' più difficile Noi speriamo di andarci il giovedì Beh ma il veriello Lo finisce in un numero Lo finisce Io poi a un certo punto Dopo 3-400 numeri Mi sono smesso Non mi ricordo A un certo punto Ho smesso Diran Dog Perché Ma è un po' E poi ho mollato Tutti gli altri Il doppiaggio dello squadro Tu sei d'accordo Che è stato cambiato Tu che dici Eh lo stavamo dicendo Anche nella live sul cinema L'altra settimana Abbiamo fatto la live sul cinema E E lo stavamo dicendo Che è uno scandalo I doppiatori Sono anche bravi Perché mi sembra Che la voce Del Capitano della barca Quello Il marinaio Quello cattivo Quello Quello burbero Se non sbaglio Il doppiatore Dovrebbe essere Quello di Walter White In Breaking Bad Insomma Quel doppiatore famoso Quello che ha fatto Pure Mi sembra di Soprano E quindi è un bel doppiatore Però non puoi cambiare Le voci Dunc alto Come lo squalo Nel 100 Ah nel 100 Ma si lo finisce Ma poi invece Negli altri dopo Continua a farlo Non lo viste sul canale E' la storia E' la storia Stiamo a parlare 8 ore Prima o poi arriverà Quint Bravissimo Il pinza Quint Grande Non mi veniva Quint Il 100 E' appunto Infatti E poi hanno continuato Bravo Adesso mi ricordo Back to the nerd I ridoppiaggi sono un'eresia Sono d'accordo anche io Soprattutto su dei cult Calt Calt Ma quando c'era l'anniversario Del signore degli anelli Non mi ricordo In che anno è uscito Mi sa 2000 2001 Il primo Fa cagare il nuovo doppiaggio Dello squalo Si però Tu lo puoi ridoppiare Però nel blu ray Tu mi metti La traccia 1.0 2.0 Con il doppiaggio originale E poi mi metti Il 5.1 DTS Con il ridoppiato Ragazzi se tra poi c'è qualcuno Che se vende Figur della McFarlane Riguardanti più che altro Le linee Monster O la movie Movie Maniacs Insomma sta roba qui De De Mostriciattoli Contattatemi Fatemelo sapere Perché le sto cercando Io movie Maniacs Ce ne ho un sacco E c'ho pure Però c'hai Tu c'hai Io c'ho Freddy C'ho Coso Come si chiama Quello che stavi parlando prima Quello con la maschera bianca Scream c'ho Scream C'ho Scream C'ho quello Ci doveva pure Candyman Io cercavo La mosca No la mosca non ce l'ho Perché è troppo piccola Ma la perdo L'altro giorno Mi sono fatto sfuggire su ebay Pure a buon prezzo La stavo a tenere sott'occhio Dico tanto Chi cazzo sa Via Invece Puff Ha fatto come Come il vento Quella Io c'ho Io c'ho qualcuna Non mi ricordo Scream Credo che sia Candyman Freddy Krueger E poi non mi ricordo Sì no fammi rispondere a Mirko Mirko Edoardo Mani de Fargen Ce l'hai? No E c'ho lo Snow Club Di Edward Sì no Era per averla una Ce ne sono alcune che sono eccezionali Non tutte sono perfette Alcune sono eccezionali Mirko de Hot Toys E' per averne una Io c'ho una 3-0 C'ho una Star Race E' per avere almeno Un'ottose E' la scelta Che problematica Conoscete Stranger Things Emanuele Emanuele Ma tu hai capito Ma scusa ma allora Quando io chiudo i video E dico Questo è il canale più nerd di Youtube Non conosco Stranger Things Cioè ragazzi Stranger Things è dell'epoca mia Cioè ambientato negli anni 80 Quando i ragazzini Dei Stranger Things Stranger Things Ci hanno 13-14 anni In 84 Io c'ho 14 anni In 84 Quindi esattamente E' la mia Non posso non conoscerla Hanno ridoppiato anche i film Di Stallone e Cliffhanger No E che Ma scusa Cliffhanger non era doppiato Da Ferruccio Amendola Sì E me hanno ridoppiato Cliffhanger Ma Stallone No Perché hanno ridoppiato Scusa Non lo so Lo stava dicendo appunto Alberto E poi come Primo Hot Toys Deve prendere quella di Mario Brega E che appunto Quello col cappotto di cammello E gli occhiali E che tu schiacci il pulsante E dice Stamano può essere piuma O può essere ferro Oggi è stata piuma Oggi è stata piuma Grazie Vincenzo Sì ho il DVD E beh è uno scandalo allora Che Brucialo Il DVD di Cliffhanger Con ridoppiaggio Ma c'è anche la traccia originale Quindi oggi Scorriamo Che hai 48 anni Chi l'ha detto? Ah 14 E non vargono ste cose ragazzi Eh no Cioè siete scorretti Siete scorretti Vabbè 48 anni Anagra Uno scandalo Sì bravo Alberto Beh io faccio Dustin E vado al Romics E vestito da Dustin Oh grande Davvero Chi? Emanuele Emanuele Basso Ah No non c'è il doppiaggio originale Allora è proprio un'eresia Ragazzi allora Se devo dire una cosa Voi siete i miei youtuber preferiti Vi amo e vi voglio tantissimo bene Perché io apprezzo tutto quello Che comprate Con voi la collezione si allunga Dallo Beh grande Questo è un altro di quei messaggi Che vabbè insomma Niente Fammi piangere pure a me Me li incornicio Ragazzi allora Se devo dire una cosa Voi siete i miei youtuber preferiti Vi amo e vi voglio tantissimo bene E perché io apprezzo tutto quello che comprate Con voi la collezione si allunga Dallo Schermo C'è la pubblicità Dallo schermo Ah ecco è tornato Gabriele Perché c'è la pubblicità di Don Matteo Cioè Gabriele c'è tradisce per Don Matteo Vabbè la passione è passione Grande Terence Hill Comunque grazie a quel ragazzo Che ci ha mandato quel messaggio Ma si chiama Andrea? Sì chi chiama Grazie Andrea Andrea sì Dai dai 40 Sono un'altra giovinezza Glenda Molto spesso Quando vengono in negozio E mi chiedono Senta scusi Ma per un bambino di 4 anni 5 anni Che cosa posso comprare? Io normalmente ti dico Guardi Io compri questa Perché io compri questa pistola Perché ci si divertirà da morire E io lo garantisco Perché siamo coetanei Quindi c'è Io dico sempre Perché L'importante è non sentirseli Non sentirseli L'età quella pesante Il cliolico È stallone E i soldi sono la ragazza che cade Cliffhanger A proposito Avremo un attimino Sto argomento età Lo sai a proposito Dell'età Gabriele ma non stai A vedere Gabriele ma non stai a vedere Don Matteo Cioè Io mi sento molto più ragazzino Adesso Di quando ero ragazzino Sì appunto Sicuramente Perché sei un ragazzino maturo Cioè nel senso No 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 Ragazzino maturo Io a 15 anni ho fatto la vita De uno Ah beh Sì può darsi Sì può darsi Però a 15 anni Sei scemo magari No Invece adesso sei ragazzino Ma ragazzino Capito Vabbè dai Io mi sto a morire De calo Emanuele io ci vivo al Disney Store Sto sempre lì Com'è possibile che non mi trovi Spero che Gabriele sia tornato a vedere Don Matteo Visto l'ultimo messaggio Che ha scritto E Sì Visto l'ultimo messaggio Che ha scritto Sull'età Ho scoperto Che i VDCCC Erano le Silly Finsonis Eh VDCCC Sono difficili da trovare I prezzi salgono e scendono Perché? Glenda L'avevamo immaginato Dai tuoi commenti E dalle cose che compri E ci piace Che compra Glenda? Eh no Eh Gabriele Tu stai frequentando un po' troppo Mirko E son qua Eh lo so E stai frequentando un po' troppo Mirko Ma io sto Gabriele che sta Che sta a spalletta con Mirko? Il video di Manuel Con il cellulare Disney Eh no ragazzi È che capito? Io sto con La linea del piano di sotto Con il piano di sotto Sto scroccando E lui con la sua Quindi io ho Un segnale più basso Perché se andiamo Tutte e due sulla sua Poi saltano tutte e due Ma ti ricordi la foto Che abbiamo fatto al Disney Store Certo me la ricordo Emanuele Anche perché non è che so Un dio Non me capita tutti i giorni Anzi quindi La ricordo E la ricordo Ce l'ho qua È figa Non parliamo dell'età Dei collezionisti Può essere la più vecchia Tu hai visto mai Scrimmi su Netflix Ma non c'è Non c'è Quando uno colleziona I giocattoli E colleziona anche Le cose che non svelo Perché le Le faremo vedere Nel video E L'età sparisce L'età sparisce Quando uno colleziona Quello che collezioniamo noi L'età sparisce Eh Eh grazie Gabriele Anche perché è due contro uno Almeno facciamo uno contro uno Almeno alternatevi Emiliano Tua nonna è fantastica Ha visto il video Chi? Emiliano Tua nonna è fantastica Ho visto il video Vincenzo Ha fatto un video con tua nonna Non ha visto il video con me Non lo so Emiliano Tua nonna è fantastica Ha visto il video Ma forse su Facebook Ma può darsi Ma quando c'è canto Un macchina Probabilmente Grazie Glenda Mirko Non lo istigare Mirko Non lo istigare Comunque signor Anna Io sono in attesa Di cominciare Quest'opera Monumentale Sulla sua collezione Per far vedere A questi ragazzi Che cosa vuol dire Collezionare E collezionare Senza freni E collezionare Delle cose carinissime Mio padre A 50 anni Ancora aveva in giro Con le macchinine Sui jeans E fa bene Gabriele Vabbè Poi l'ho conosciuto Tuo padre Quindi c'è Sì sì Vincenzo Ah sì Sì Quello di Facebook Il sì sì Dovrebbe essere Quello di Facebook Ma stai stranito con me No Ma io scherzo Gabriele Gabriele Scherzavo Perché tu hai tirato Hai fatto il conto Hai tirato fuori L'età E eccetera E eccetera Quindi Scherzavo Facevo un po' il vanitoso Nel senso che Non dite la mia età E Mannega dorme No eccolo qua Un po' di freni Non mi farebbero male Lo so Glenda Però poi uno pensa Legge Adesso non vorrei fare Il filosofo Però poi legge Tante cose Di quello che dice Che ne so 37 anni Ieri stava bene Domani è morto Quell'altro è morto Così allora Dico sai che c'è Ma chi se ne frega Cioè veramente Qui oggi c'è stai Domani non c'è stai più E quindi Io me la godo E poi Quello che succede Succede Ciao Francesco Certo che ti saluto Francesco Lombardi Guitarist Sì sì Lo so Lo so La figlia No Vogliamo sapere Come sta tu figlia Nega Nega Sì C'è ragione Scusa Mirko Scusa Mirko Non avevo capito Aspettate che sono rimasto indietro Scusa Mirko Stavolta sono io Che non sono stato al passo Non avevo capito Il riferimento al grande raccordo anullare A quello di riferire Non parlare delle figure De Battamana De Arkham Perché io Sto solo a mongrundi qua Francesco I Ninjago Sono carini Ma non mi ci avventuro Perché è un altro mondo Capito Cioè non è È un altro mondo gigantesco Quindi li sto ignorando per ora C'era uno Tra di voi Avete gli atlantic da piccoli È certo C'era un bidone pieno Mia madre ha buttato tutto Con tutti gli altri giocatori Si è panificato Perché non l'ho trovata Io ho conteggiato Mio cugino Con le collezioni E non si ferma più Sorgoglio Hai contagiato Grande Grande Se adesso lo fai iscrivere pure al canale Hai fatto un lavoro perfetto Ma sì Al diavolo lo stipendio Ma sì Glenda Ma che ce li fa con i soldi Giorgio Per fare sto video collezione Mi devo Mi devo sistema bene Certo Andrea Allora ti hai registrato Quando abbiamo detto E quindi io vorrei farvela vedere Quando abbiamo detto Che i messaggi come il tuo Sono quelli che ci danno La forza e la voglia Di andare avanti Di continuare a comprare Di fare i video Di metterci li a montarli Di andare a cercare Di fare le cose Eccetera eccetera Ma il primo Che la tira a mano E non so che gli faccio Grande Gabriele E se nasce una bambina Poi La chiameremo Nega No grazie a te Andrea Giorgio No penso pure su Amazon Lo dovresti trovare Io perlomeno Tempo fa Lo vi dico Ah sì ok Certo Certo Un prezzo abbastanza buono Vuoi sentire una battuta Vai Sì guarda Francesco Io l'ho trombati Per esempio Euronics L'ho trombati L'ho trovati I set di Lego Di Lego Dimension Li ho trovati al 70% Ce l'aveva Euronics Ho comprato una valanga di roba Ti tirano dietro Di Euronics Adesso Gli è rimasto solo uno Dei set Lego Dimension Sono 20 anni che sta là Sì Ho trovato una tunelina di sciencio Di tumba Di un tabaccaio Di San Gimignano A 24 Non ho potuto resistere Hai fatto bene Gabriele Lascia Ah c'ha ragione Non abbiamo più detto Lasciate sta Francesco Do sta Eh non lo so Mi ha ricordato Mirko Vabbè ragazzi Io ho 10% di batteria Quindi ho finito la batteria Sì no Quindi io La mia la devo chiudere Vi volevo solo dire Che le prossime due live Saranno Sui videogiochi Le mie personali Sui videogiochi E sui libri Che mi è stato anche suggerito Che già ci avevo pensato Anche Mirko Mi ha dato questo spunto E se mi riesce Per tutte e due le live Ciao Spartacus Vi porto un ospite diverso Per ogni live Uno specialista Per ogni live Vediamo se mi riesce Ciao Luigi Ma tu hai giocato All'ombra della guerra Signore degli anelli Non ho mai giocato A un gioco Forse quello Sulla prima Xbox Li devo recuperare Sì l'ho visto L'ho visto L'ho visto E' pure un attore Che gli sta bene Quel ruolo Mio figlio Non gliene frega niente C'ha 15 anni E non gliene frega niente Delle collezioni E non è per niente nerd I piacciono tutti i videogiochi E' l'immancabile Batman Dalla nega Sì I personaggi in metallo Dei fumetti italiani Ciao Alberto Anche E' stata una cosa lampante Stanno anche per chiudere Anche Beh signora Landa Mi ha fatto molto piacere A cena scrocco da me Stasera Averla in live Mi ha fatto enormemente piacere E niente Aspetto un messaggio Quando sarà pronta Per cominciare i video E ragazzi La batteria Sta lampeggiando Non male così da zitti Esattamente Prima che si spegne il telefono Vi saluto a tutti Vi voglio bene Vi abbraccio Ok Per le adozioni Poi ne parliamo Buona serata anche a voi Ma l'hai letta La battuta No Allora ma l'ho persa Io ero rimasto Me l'ho persa Che Arkham ti sei venduto Simone Che Arkham ti sei venduto Vuoi sentire una battuta Dopo non c'è Andrea Li sto rileggendo tutti Dopo vuoi sentire una battuta Non c'è la battuta Andrea Tu la compri la nuova figure Predator Non lo so Ci sto pensando Ho mangiato spanetti alla Nega Sì stasera abbiamo fatto Spaghetti alla Nega Ciao Andrea Ciao il pinza Sta morendo il telefono Grazie 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 Signora Anna Grazie E niente Vi abbraccio a tutti Vi voglio bene Il telefono si sta Allora la vado a rileggere Ci riprovo Andrea Se non si spegne il telefono Guarda che io non ce l'ho Nella live non la vedo Prima due serie complete Poi il Clayface Andrea non c'è Io non la vedo Non lo so perché Il Titan Jogger Sì Aspetta Adesso vale davvero Una fortuna E non c'è Andrea Il Clayface si trova tranquillamente Anche a 40 euro ancora Fai copia e incolla Andrea Prima che si spegne il telefono Le prime due serie Adesso ricordami che cosa comprendevano Perché adesso Ricordarmi i soggetti di ogni serie Gabriele sarà la prossima settimana Dopo Luigi Io non trovo nemmeno Luigi Immagino ci fosse anche Eh no Dopo Luigi c'ho Back to the Nerd Non c'è Andrea Non lo so perché ma non c'è Il Killer Croc ad Asylum Ragazzi si sta spegnendo il telefono Vi voglio bene Della live Non prossimo Don Matteo Ho capito Gabriele E niente ragazzi Vi voglio bene Un abbraccio Il telefono si sta spegnendo Ci vediamo la settimana prossima Con la live mia personale Ciao ragazzi